e ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video di gestione coi che vi faccio vedere che andiamo a provare Temu questo social tipo aliexpress wish non è un social ma è più un sito di acquisti ho già qui messo nel carrello quello che voglio comprare è uno e questo sempre a tema cinema luce notturna creativa con lettera led da un pezzo sarebbe una lavagna luminosa con le lettere questo è un primo prodotto poi ho messo nel carrello anche quest'altro smart led light bar che ci sono queste barre a led dove si illumina il dove si illumina poi ho preso per la postazione computer queste casse bluetooth qualità audio da cinema con diffusore surround per home theater 3d da 20 watt voglio prendere poi oltre a questo ho preso anche questo supporto in peristerono con lo schermo da cinema per poterlo mettere in esterno come potete vedere qua ci sono i vari supporti e poi in più ho preso questo tappeto da mettere nella sala cinema ora però oltre a questi voglio mettere in più anche qualche altro gadget e vedere un po' cosa aggiungere più voglio fare comunque non a 150 ma sui 160 170 euro di gadget qui su temo quindi vediamo un po' cosa poter prendere qui abbiamo un po' cosa poter prendere qui abbiamo un modellino lego del titanic 16 euro vediamo un po' se è fedele beh penso di si vediamo se aggiungiamo questo al carrello vai al carrello 174 euro ok io su paypal 178 quindi direi che possiamo prendere questi questi gadget quindi assembla le titanic di lego poi questa lavagna cinematografica queste barre a led questa sound bar questo schermo di proiezione e quest'altro tappeto a forma di cinema vediamo se inseriamo anche quest'altro anche quest'altro l'italia ok taglia l'italia bianca vediamo un po' 177 ok perfetto 7 articoli venivano 312 si è fatto nel video comunque venivano 312 euro per questi articoli più sconto del 134,85 euro e in totale viene 177,68 euro quindi direi di andare a pagare con paypal e di provare a prendere questi articoli pagamento veloce con paypal andiamo a mettere i dati andiamo a mettere i dati andiamo a mettere la password e quindi ottieni il tuo wallet ok continua a ricevere l'ordine vediamo di mettere l'indirizzo prezzo predefinito di temu presso scacco pacco conferma pagamento in lab ok e abbiamo fatto questo ordine pagamento riuscito consegna 23 novembre trattino 4 dicembre vedremo adesso quando ci consegneranno questo pacco con questi ordini e poi vi andremo ad unboxare insieme qui sul canale e niente ragazzi mettete un like, commentate e iscrivetevi al canale e niente ciao a tutti belli ciao 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 ciao